Se ti chiedi cosa ti ha spinto a dedicarti alla musica, noterai che, qualunque sia la tua risposta, essa riguarda il modo in cui ti fa sentire le emozioni che vivi suonando. Non bisogna dimenticare che noi proviamo ed esprimiamo emozioni, ma non siamo le nostre emozioni. Le emozioni sono, per definizione, in continuo cambiamento e trasformazione. Le emozioni liberano qualcosa che è dentro di noi e sono dunque un processo assai più che una cosa. Se ci identifichiamo troppo con esse, rischiamo di restarne incastrati e di diventarne vittime. Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e oggi voglio segnalarti un altro libro importantissimo che non deve mancare, al tuo scaffale dei libri per la musica. Questo libro si intitola Maestro di te stesso e gli autori sono Federica Righini e Riccardo Zadra, che sono due pianisti classici. Queste due persone hanno dedicato oltre vent'anni della loro vita alla ricerca e allo studio della PNL per applicarlo alla loro carriera musicale di insegnanti e di coach per musicisti. Infatti questo libro tratta la valorizzazione del proprio talento, il potenziamento dell'attenzione e la concentrazione, la preparazione e il miglioramento per la propria performance, il superamento dell'ansia da prestazione e il controllo della paura, la miglior gestione delle emozioni, l'accrescimento dell'autostima, la definizione e il perseguimento efficace dei propri obiettivi, liberandosi da pregiudizi e condizionamenti. Io ho trovato questo libro su Amazon cercando appunto PNL per la musica perché è un argomento che a me interessa molto, lo sto studiando anche io e mi sono imbattuto in questo libro. L'ho letto due volte, mi sto accingendo alla terza e ti garantisco che questo è un libro dove troverai un sacco di consigli utili, troverai anche dei concetti molto strani, quasi scioccanti per chi non conosce questo tipo di materia, per chi non conosce la programmazione neurolinguistica. Io trovo questa applicazione e questo studio fatto da Federica e Riccardo, che io ho contattato personalmente e ho anche incontrato, di un valore incredibile. Veramente io ho trovato qui dentro delle cose, dei concetti, degli aiuti, dei consigli che non mi aspettavo di trovare in un libro. È veramente un libro che non puoi non leggere. Se vuoi essere un musicista, un insegnante, un performer moderno, aggiornato, devi leggere questo libro. Insieme agli altri due che ti ho consigliato tempo fa, quello per la preparazione atletica del dottor Marco Brazzo, La metamorfosi del musicista, e quello di Kenny Werner, Maestria senza sforzo. Questi tre libri, secondo me, sono un must, devi averli per forza. Comprali, leggili, ormai l'estate è finita, il tempo dei romanzi sotto l'ombrellone è sfumato, è ora di rimettersi sotto. Compra questo libro, leggilo e fammi sapere che cosa ne pensi. Se l'hai già letto scrivimi nei commenti sotto a questo video, oppure se dopo questo video andrai su Amazon o in libreria a comprarlo e lo leggerai tutto, contattami nel sito thedrumbooster.com e scrivimi che cosa ne pensi. Ci tengo perché questa è una materia che secondo me, oggi come oggi, non può prescindere dal nostro lavoro e non può prescindere dalla nostra crescita personale. Secondo me, e non solo secondo me, smettere di crescere è la cosa peggiore che nella vita si possa fare. E come si fa a crescere in continuazione? Semplicemente studiando, formandosi, ricercando sempre cose nuove, guardando in rete i consigli di persone che sono magari più avanti di te, leggendo libri come questo, ce ne sono tantissimi sulla PNL, sulla musica, te ne consiglierò altri. Per cui mi raccomando, se ti reputi un musicista intelligente, stai sempre aggiornato e formati in continuazione. Fammi sapere cosa ne pensi sia qui su Facebook che nel mio sito. Ciao e alla prossima!